Sette 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 Sette, sette Sette, sette nove Cinque Il piglietto numero sette sette nove cinque È stato venduto dal drago Giustamente, tovaglia verde C'è qualcuno che è presente quel biglietto? No Ok, questo lo possiamo conservare mettili tutti da una parte così assegniamo il premio 8 che sono delle formine per fare cioccolatini 8 8 è il primo numero estratto 5 annulliamo il premio è offerto sempre da Euroshop in Vianenni 4 4 e questa è la serie volete vedere che questo capita a me che non devo mangiare 6 4, 6 e quindi sono escluso 4, 6 5 4 4, 6, 4 6 6 6 6 il biglietto numero 4, 6, 4, 6 venduto dalla Contrada della Terra la Terra ha segnato l'ottavo premio c'è qualcuno che ha vinto qui? nessuno conserviamo quest'altro premio ok il nono premio il terzo di consolazione è una sabbia profumata al fico e rosa della AdiTrend 6 numero 6 è il primo numero estratto offerto sempre da Euroshop mi sento tipo ok questo è giusto oggi 6 2 2 questa sabbia potete metterla in macchina ovunque ci siano cattivi odori ecco questa sabbia risolve tutti i vostri problemi 5 5 6 2 5 6 6 6 5 8 venduto dalla Stella la Stella ha segnato la sabbia profumata fico e rosa della AdiTrend c'è qualcuno che ha vinto qui? tu? noi la contrada la contrada ah ok ok beh tipo un auspicio per un'eventuale sede che sicuramente eh? eh ad Antonella ecco abbiamo segnato il fico e rosa non potevamo non assegnarlo ah questo è un premio fantastico bene si si allora assegniamo un passamontagna per rapine che questo periodo può servire offerto da Euroshop in via Nenni 5 un passamontagna caldissimo utile per le rapine 5 5 5 5 ok 5 5 Simone eh sì 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 il biglietto 5526 è stato venduto dalla stella sempre 5 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 6 9 no, quindi mettiamolo dentro Eh no, la serie è con il numero 9 non la 9? 9, non possiamo toglierlo direttamente quel numero? Tanto è inutile Brava, brava, brava 7 7, 7, 7, 7 1 7, 1 3 7, 1, 3 9 9 Il biglietto numero 7139 è stato venduto Dalla Terra La Terra ha assegnato questa cornice, non c'è nessuno che lo può ritirare Affranchiamo Assegniamo un'altra cornice per foto, ce ne sono diverse 8 8 8, il primo numero del biglietto è l'8 Ruzzila, ruzzila Offerto sempre da Euroshop in Via Nenni Niente, 8, 8, niente Ok, ripetiamo l'estrazione Mi raccomando Alessio, gira bene, gira bene 0 0 0 4 0 4 0, 4 7 7 9 9 9 Il biglietto 0479 È stato venduto? Sì Dal fuoco Il fuoco assegna il premio numero 12 che è una cornice Per fotografie chiaramente C'è qualcuno che lo può ritirare? No Via